Abbiamo constatato su questo terzo punto, sulla politica economica, che la legge di stabilità non era votabile, quindi voteremo contro la fiducia. Possiamo anche constatare che il clima di pacificazione non si era mai creato e valuteremo che fare per quanto riguarda le riforme istituzionali che erano ovviamente connaturate alla dimensione, alla volontà politico-programmatica di un governo di larghe intese. Quindi oggi cambia una fase, è finita una fase e aspettiamo che la sensibilità istituzionale del Consiglio Ricoletta e la responsabilità istituzionale del Presidente della Repubblica ci aiutino ad aprire una fase nuova e diversa.